Buonasera, sono l'RSA di Pozzuoli, della CUB, CUB Trasporti. Continuiamo questa protesta, ha iniziato stamattina sul cantiere d'Arzano. Abbiamo indotto uno sciopero di quattro ore su tutti i cantieri CTP, tra cui c'è Arzano, Pozzuoli, questo qua da dove stiamo facendo questo video, e il cantiere di Teverola. Volevamo dire e far sentire quelle che sono le problematiche dei diritti che puntualmente violano le aziende, aziende in questione e laici servizi in questo momento. La prima cosa importante è che ancora una volta, nonostante la protesta che abbiamo iniziato, e non ci fermeremo, non ci hanno pagato. Ancora una volta ci pagheranno in ritardo, nonostante la CTP si impegna a pagare delle fatture, è vero che ci sarà un concordato dalla quale laici ha aderito, però comunque non sono problematiche che possiamo pagare noi lavoratori, assolutamente no. e ci sono tanti altri temi alla quale noi vogliamo protestare. La sicurezza, in questo periodo la sicurezza è una cosa importantissima, è vitale. è proprio il caso di dire che oggi la sicurezza sul lavoro, per il lavoro che svolgiamo noi, è vitale.